La stagione estiva è alle porte, anche se il tempo dice no per ora. Il Comune sta studiando tutte le carte per rilasciare le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, per permettere ai commercianti di mettere i tavoli all'aperto e le orze. Ma la notizia è che stanno arrivando già le prime diffide dei residenti che si sono rivolti a uno studio legale. Per ora è un monito, ma si preannuncia già un'estate rovente se queste sono le avvisaglie per la movida aquilana. Il 21 marzo già c'è stata una prima diffida. Dopo l'incendio alla pizzeria Peperoncino e le difficoltà dei vigili a raggiungere il centro, la problematica è rimersa. In questa diffida si fa riferimento, oltre ai rumori e ai danni della movida, anche a questa difficoltà, essendo una donna che ha bisogno di assistere il padre novantenne che vive con lei in precarie condizioni di salute. La diffida è partita proprio da un'eseggenza di sicurezza di una residente del centro storico che per motivi suoi personali ha necessità di assistere il padre che risiede con lei, persona molto anziana, e vista la configurazione dei dehors dell'anno scorso nella zona di piazza Regina Margherita, lei ha realizzato che se il suo padre dovesse aver bisogno di un'ambulanza o comunque di un mezzo di soccorso, sarebbe impossibile che il mezzo di soccorso possa arrivare sotto casa sua. Per questo, per prevenire questo rischio, viste le precarie condizioni di salute del padre, si è risolta di fidare il comune a concedere l'occupazione di suolo pubblico nella misura in cui è stata concessa l'anno scorso e soprattutto a invitare il comune a controllare che vengano rispettate le concessioni di suolo pubblico, perché spesso succede che i tavolini e le sedie che vengono messi nelle piazze e nei vicoli in realtà esorbitano le concessioni rilasciate. La battaglia tra residenti e movi dall'Aquila va avanti da tempo, diventa sempre più difficile contemperare le esigenze di chi vive al centro, dei giovani e dei gestori dei locali. Anche loro hanno il diritto di lavorare, giustamente, spetta al comune dunque trovare delle soluzioni per il rispetto delle regole che accontentino un po' a tutti. È vero, i problemi ci sono, però i cantieri vanno organizzati, la cantierizzazione va gestita, non possono nascere cantieri come funghi senza pensare poi al fatto che vengono chiuse strade, rimanendo quindi circoscritti in delle isole inaccessibili, locali, negozi, abitazioni. Nessuno vuole impedire che i locali, questo è il solito discorso, l'avrò fatto mille volte, che i locali mettano i tavolini, ma il tutto deve essere coordinato con le esigenze di sicurezza e di vivibilità della città.